Nuovo appuntamento con la rubrica settimanale di informazione parliamo di Nella seconda puntata in onda a partire da domenica prossima si parla di storia e più precisamente dell'esodo della popolazione Giuliano Dalmata e delle vittime delle foibe. Tristi pagine di storia dimenticate o occultate per quasi mezzo secolo e che solo dal 2004 con l'istituzione in Italia della giornata del ricordo iniziano ad essere attenzionate dall'opinione pubblica. Per discutere del delicato tema ospiti del professor Giuseppe Crapanzano, i docenti Angelo Amato e Domenico Svettini, quest'ultimo testimone diretto dell'esodo. Anche nella seconda puntata di parliamo di non poteva mancare lo spazio dedicato ai giovani talenti della musica con l'esibizione e studio della cantante Simona Arnone. L'appuntamento con parliamo di è fissato quindi per domenica intorno alle ore 15. La trasmissione andrà in onda in replica il lunedì alle ore 18 e 15 circa, il mercoledì alle ore 23 e 10 e tutti i martedì, giovedì e sabato alle ore 12.